arte non è il semplice tasto stonato ma è proprio quello rotto è il ritmo spezzato sulla tastiera di un piano che costringe l'arte a parlare è il colore sbagliato la macchia da rimediare l'insensatezza del fare la rottura improvvisa e l'illogica incertezza è il cucito drammatico dell'improvvisazione l'arte è la malattia se angoscia assurda e dirompente se morte non uccide l'arte la dissonanza nel silenzio assoluto la caduta da cui ci si rialza